6 chilometri di creste aeree che l'hanno resa celebra in tutto il mondo una gara tra le più pazze, contraddistinta da un tracciato che nel corso degli anni è riuscito a stregare molti dei migliori interpreti mondiali dello Sky Running, sino ad inserirla di diritto nella classifica delle superclassiche più amate, tecniche spettacolari dell'intero arco alpino. Stiamo parlando della Sky Marathon Sentiero 4 luglio. Dopo la promulancia natalizia questa settimana si sono infatti aperte ufficialmente le iscrizioni a quella che è stata scritta negli annali quale prima Sky Marathon di sempre. Una signora gara che per la sua bellezza e spettacolarità è stata scelta ancora una volta dalla Fisca e la Federazione Italiana Sky Running come prova unica di campionato italiano di specialità. Come da tradizione saranno anche questa volta 400 i pettorali in paglio, la data da segnarsi in rosso in calendario, quella di domenica 3 luglio. Oltre alla prova principe da 42 chilometri caratterizzata da 2700 metri di dislivello positivo, confermatissime la mezza da 21-1500 metri di dislivello e la mini Sky rivolta a bambini e ragazzi che avrà luogo tra le vie del paese. Opportuno ricordare il record da battere, quello maschile, griffato Mario Poletti e datato 2003, durissimo anche il personal best in rosa, un record stabilito da Emanuele Abrizio nel 2005.